Ci sono ingredienti, 320 grammi tagliolini, 160 grammi brown ham di San Daniele, 200 grammi di crema fresca, un po' di pezzi, oliva, salto, pezzi nero. Cuidere il ramo con piccoli, mettere l'acqua nel wok e cuore. Quando la acqua si cuore, mettere salto nel wok, poi mettere un po' di pasta nel wok e in una pannella il ramo con un po' di oliva. Combine le cucchiai di ramo con pasta, aggiungere la crema fresca. Aggiungere il pepe e mix tutto, poi aggiungere le pepe. Aggiungere il pepe e mix tutto, poi aggiungere la crema fresca. Aggiungere il pepe e mix tutto, poi aggiungere la crema fresca.